È l'agosto del 1910. L'esploratore norvegese Roald Amundsen salpa a bordo della Fram, che in norvegese significa avanti. È la nave di legno che ha navigato nelle regioni più a nord e più a sud della terra, forse la più resistente mai costruita. Amundsen e i suoi uomini salpano dalle coste della Norvegia, diretti verso il polo nord. O almeno questo era quello annunciato ufficialmente. Arrivati a Madeira, il capitano dell'esplorazione comunica al suo equipaggio il cambio di rotta di 180 gradi e invia un telegramma per rendere la notizia pubblica o se non altro per far sapere al suo rivale, il britannico Robert Scott, il suo vero obiettivo. Alla fine di gennaio del 1911 la Fram raggiunge la barriera di Ross, luogo in cui l'equipaggio costruisce la base di spedizione, la Framheim. Da qui inizia la vera esplorazione. Nei mesi successivi Amundsen e l'equipaggio preparano il percorso dalla base al polo, collocandovi depositi di cibo e strumentazione. La spedizione riesce a costruire tre aree di appoggio lungo il percorso prima che il sole tramonti l'ultima volta, lasciando gli esploratori nel buio inverno antartico per i quattro mesi successivi. A primavera inoltrata, il 19 ottobre 1911, Amundsen decide di cominciare la missione finale con quattro uomini, 52 cani e quattro slitte. Dopo un mese di viaggio il gruppo raggiunge i monti transantartici, che dividono l'Antartide occidentale da quella orientale con vette massime intorno ai 4.500 metri. Perdono cani e abbandonano slitte lungo il percorso, ma dopo 99 giorni di viaggio e oltre 3.000 chilometri arrivano finalmente al polo sud, dove piantano una piccola tenda e lasciano una lettera, per dare testimonianza dell'impresa in caso di morte durante il ritorno. Qualche giorno dopo, recuperate le forze, cominciano il percorso a ritroso, per accelerare il rientro. È il 7 marzo del 1912, quando dalla linea telegrafica del porto di Hobart in Tasmania, Amundsen annuncia al resto del mondo la sua impresa.